Ancora arresti per droga da parte dei carabinieri della compagnia di Tirano, ancora un laboratorio allestito in casa per la coltivazione improprio della marijuana. In manette è finito un operaio 35enne di Livigno, Giulio Cantoni, già sotto osservazione da parte dei militari della locale caserma, per un sospetto giro di stupefacenti nel piccolo Tibet. L'uomo, fermato alla guida di un autocarro di rientro in Italia, al valico del Ponte del Gallo, ha tentato di sviare i carabinieri fornendo indicazioni errate sul suo domicilio, poi però, una volta riconosciuto, ha iniziato a manifestare segni di agitazione e a fare parziali ammissioni sull'uso personale di droghe leggere. La perquisizione nella sua abitazione ha portato a scoprire 80 grammi di marijuana, due bilancini elettronici di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, 900 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio, oltre a materiale per allestire una vera e propria serra domestica, sequestrati semi di canapa indiana, 13 vasi di varie dimensioni, fogliame, rami essiccati di piante di marijuana, due sacchi di terra, un termoventilatore, un aspiratore, una lampada termica, un termostato, varie confezioni di fertilizzante e numerose riviste specialistiche per la coltivazione della canapa indiana. Nell'appartamento di Cantoni è stata anche trovata una carabina ad aria compressa modificata per aumentarne la potenza. L'uomo è stato arrestato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei suoi confronti il giudice per le indagini preliminari, Fabio Giorgi, ha disposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Livigno. Cerchiamo di contrastare il fenomeno di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti su due fronti, quello della prevenzione e quello della repressione. Per quanto riguarda il contrasto di tipo repressivo con la presenza costante sul territorio, un monitoraggio capillare delle strade, e cercando appunto di contrastare quello che è il fenomeno della diffusione soprattutto tra i giovani delle sostanze stupefacenti. Inoltre siamo anche molto attivi sul piano della prevenzione, in particolare nel mondo delle scuole in collaborazione con le dirigenze degli istituti scolastici di scuola secondaria di primo livello e di secondo livello dove periodicamente incontriamo gli studenti e cerchiamo di contribuire alla diffusione della cultura della legalità, in particolare sul fronte della prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti, portando a conoscenza i ragazzi di quelli che sono i rischi maggiori che derivano dal consumo di queste sostanze, ma anche e soprattutto informandoli di quelle che sono le conseguenze penali e legali più in generale nel momento in cui venissero trovati in possesso di sostanze stupefacenti sia per uso personale che ai fini di spaccio.